ciao ragazze come state spero bene nuovo video blog guarda che criccio oggi sono stata di nuova dentista e mi ha tolto i punti finalmente come dicevo ieri e niente quindi alla fine sto cercando di di mangiare qualcosa anzi ho già finito di mangiare sono già passata al caffè e niente io un piccolo azzoletto per levarmi tutto ma vabbè e niente ragazze quindi ho appena pranzato e come dire ho pranzato ho preso un caffè e adesso mi sto guardando un po di forum non so se farlo vedere o meno che sto guardando fuori però è così aspetta un secondo ecco questo è forum ragazzi miei ma sto guardando perché mi piace da sempre quando esiste forma io l'inizio non ero consapevole che mi piacesse invece mi piace molto forum ed è molto bello questo forum vedete già mi piace davvero tanto 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 bello si è avuta se ne dicono tutti i colori su forum però mi piace e niente a presto ed eccomi allora ragazzi miei metto questo al bocca perché se non mi sentite bene e nulla che dire tra poco farò un video smr dopo di questo non vi prometto niente perché non lo so se finisco a fare un video smr perché questo è un video solo per parlare un po di come è andata la mia giornata e non sono riuscita a fare cioè sono riuscita a sassari fino a sassari però non voluto vloggare perché ero con una tassista che forse non so se avrebbe voluto che avrebbe voluto che io riprendessi però alla fine sto riprendo qua a casa come sempre non nella mia solita angolazione avere la mia solita location ma seduta qua sul divano come potrebbe vedere comunque qua c'è la borsa e tutta la corrente e niente ragazzi miei praticamente parlo piano perché mia mamma sta dormendo e non vorrei disturbarla quindi niente quindi a breve fare un video smr sempre che riccio però un breve video che riccio lo sta facendo adesso questo momento mi ha detto che devo contrarre la terapia dell'antibiotico e poi ovviamente continuare con i miei soliti cargadismi delle collutore io come collutore c'ho tanto un verde quindi prenderò tanto un verde per fare cargadismi niente oggi mi sono vestita così come potete vedere pantaleggings sì pantaleggings e cos'altro questa maglia che questa me la sono messa perché mi sono cambiata poco fa prima avevo un'altra camicia un'altra maglia che non è una maglia ma una camicia e niente e quindi praticamente ho preso questa maglia ma l'outfit era diverso era una camicia un kimono nero un kimono nero e il più come dire anche un un pantalone sempre un altro pantaleggings con delle scarpe della nike tutto lì e inoltre vi faccio vedere tanto appena mi rivesto quella roba lì farò una foto che la metterò o qui su youtube come come a iniziare del video o non lo so come però vabbè nel montaggio vedrò tutto oppure direttamente sulla come dire sulla non veramente aiuto vabbè nel montaggio oppure direttamente su instagram scusate se non riesco a parlare però sono un po stanchina perdonatemi ragazzi però sono stanca però ho voglio stesso di parlare con voi niente il tempo pare bello perché stamattina stava più avvicinando verso sassari tra sassari vari paesi della sardegna vari paesi della sardegna e niente quindi non lo so a me è piaciuto molto il fatto che finalmente sono riuscita a destreggiare i video che voglio fare quindi tra poco vi accontento e farò un video asmr ok niente per adesso voglio continuare con i video vlog però farò anche quelli video come tipo pulizia della casa farò il video che riesco a fare e che mi riescono meglio vediamo non lo so e poi magari alcuni video di trucco ci riesco bene ok ragazzi io vi saluto e niente ci vediamo dopo un altro video asmr perché ragazzi non voglio farlo diventare né troppo corto né troppo lungo però questo video già abbiamo odiato di brutto a ascoltare i miei video asmr no asmr video normali chiacchiericcio quindi ci tenevo a fare un video come questo più breve intanto mi arriva la notifica al nastro perché sto registrando col cellulare non so se viene sette a corti però ho l'iphone 7 sto registrando adesso casualmente sta facendo di nuovo di nuovo come dire vi dicevo sta facendo di nuovo bella giornata qua a palau guardiamo fuori perché vedete fuori è bella giornata non si vedrà un bel niente aspettate un secondo allora vedete non si vedrà mai la mazza si è bella giornata come vi dicevo è bella giornata fuori e io ovviamente me l'ha approfittato per riuscire a sassari vabbè approfittato avevo bisogno di togliere i punti e mi ha voluto togliere alcuni sono andate via da sé e altri invece me l'ha dovuto togliere lui e vabbè non fa niente niente ragazze questo era un video così per intrattenere un po nel frattempo mi ha pulito gli occhiali che non ce la facevo più a straguire gli occhiali tutti i zossi però vabbè così è la verità e niente quindi praticamente risommando la situazione come come si è stata in questi giorni piuttosto bene sono stata bene sono stata e ho fatto tutte le cure necessarie e adesso per esempio tra poco voglio rilavare i denti perché sennò ti metterò la mia bocca fradice di brutte cose ovvero di vabbè di brutta fracica si fracica vabbè non sto altra dire cosa vabbè niente ragazze e vi porterò prossimamente altri video su su fatta la spesa e perché no anche video di mukbang se vi può piacere non lo so vediamo ok ciao buon proseguimento a dopo buon proseguimento a dopo